Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo insieme oggi riprenderemo una serie di eotrack simulator che avevamo lasciato in sospeso e faremo quel piacetto destinazione Milano trasportiamo carrelle allevatori e per che si voglia dobbiamo fare quasi dei mila chilometri adesso faremo una piccola tappa poi ci fermeremo e riprenderemo altrimenti vi verrà troppo lungo ovviamente sempre sprezzanti nel pericolo ammazza con qui tutti i rocci ecco la città è sempre sempre spesso apporto di questo andiamo qua Ho visto che c'è un punto negativo, mi sembra sempre guardare queste cose, sembrano stupide ma... Perché potrebbero essere c'ercizi del viaggio oppure dei concessionari Quindi, se c'è un adri, se posso trovare un dissonario, mi potete acquistare un'umica unione Quindi, in realtà, per questo proletto, le infatti, questo rubo dissonario Ora ci buttiamo nella vischia, sempre spezzati nel pericolo. Che cavolo fatta qui che è? Andiamo ad andare a Milano. Se ci riusciamo... Noi dovremmo uscire qui in Doria. Noi dovremmo uscire. Noi dovremmo uscire. Eccoci. Noi dovremmo uscire, inserite in strada. Vai, vai! Noi dovremmo uscire. sprezzati del pericolo ma ce mie, sta ce grudzi ma ce mie, sta ce grudzi c'è la pula, c'è la pula ah, un incidente anche un'altra pula se vengo e c'è il passo il passo la pula il passo il passo il passo Il chavo, oui. Il fa l'enferraire. So, vai a passare, è, è derriere. adesso eccoci a fare un testato normale andiamoci in navigatù questa è la compagnia Il momento di l'autore di Pazzo, il momento di l'autore di Pazzo, ci sono un po' di pazzesco, in Pazzo, in Pazzo, in Pazzo, in Pazzo, in Pazzo, c'è un po' di grano, c'è un po' di grano, E' un'altra cosa che c'è un'altra cosa che c'è. però i paesaggi sono molto vari, certo American Track è molto più vasta, molto più varia, peccato che ogni LC costa, mi rai se ci fanno stati ancora non si è capito bene cosa, vedrei, 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 ancora la benzina che sembra che ancora ci portiamo per un po', quindi possiamo ancora tirare avanti per sapere dove l'auto sta portando, per strada di campagna, per fare l'autostrada per un po', vediamo le mani di un po', vediamo le mani di un po', qui si siediamo, è stato che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è è, senza il lavoro, un attimo, vediamo che stiamo cercando piego, ecco il nescio Sì, non ci fai niente, non ti spazio a dire pericolo, che stanno a fare l'orevole. Grazie a tutti. 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 Largo, largo. Fate l'arco. Grazie a tutti. 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 Oh, che culo. a tutti. Grazie 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 a tutti. Tutta birra, tutta birra Vediamo, vediamo, bene sì, io direi che ci freniamo al prossimo etocrilla No, questa è ma il prossimo Buongiorno 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 Dobbiamo sfruttare al massimo tutte le capacità, così ci rendiamo bene. Ecco, adesso ci fermeremo e poi ci saluteremo. Grazie a tutti. Eccoci qua. Eccoci qua. Beh ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Se volete continui ancora con questa serie, iscrivetevi ai canali sottostanti, ai siti di gruppi di Facebook, eccetera eccetera. Bene, io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere, commentate, mettete mi piace. Fatemi sapere cosa volete vedere, insomma, interagite, ecco. Io vorrei sapere, io cerco di proporre un po' di tutto, però se voi mi fate sapere cosa volete, non so cosa dire, cosa fare. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.